Sanità molisiana con carenza di posti letto aumentano i contagi e i decessi, chiesta anche la zona rossa in alto Molise e proseguono i lavori per l'ospedale da campo. Da venerdì a domenica si vota telematicamente per il rinnovo delle cariche all'Ordine dei Medici del Capoluogo e Provincia, nuove linee programmatiche in pandemia. Il più antico edificio di culto a Campobasso, la chiesa di San Giorgio, ha assoluto bisogno di un intervento di restauro a casa dei numerosi problemi. Ottima performance del Campobasso nel derby contro l'Olimpia nionese con un meritato 5-2, bene anche per il vasto Girardi che vince 3-0 contro il Porto Sant'Elpidio. Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'informazione della sera del telegiornale di TLT. Salgono i contagi, i decessi e soprattutto la richiesta di nuovi ricoveri in Molise a causa del diffondersi del virus. L'aumento esponenziale dei casi registrati nelle ultime ore, soprattutto in alto Molise e in particolare nella cittadina di Agnone, richiede anche lo stato di allerta, nonché l'istituzione di una possibile zona rossa. L'istanza è stata inviata al presidente della regione Molise Donato Toma, ai vertici dell'Asrem e commissaria ad acta alla sanità del Molise dall'esponente del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco. Sul fronte nazionale invece sono 16.424 nuovi casi di Covid in Italia con un tasso di positività del 4,82%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute si contano oggi 318 decessi lungo la penisola, salgono anche i ricoverati all'interno delle terapie intensive. Restiamo appunto nelle terapie intensive del Cardarelli che sono ormai invece sature. Ci sono tre pazienti ricoverati, infatti in rianimazione anche al Gemelli Molise. Da domani saranno inoltre disponibili altri sette posti presso la Neuromed e qualora ce ne fosse bisogno si potrà sempre fare ricorso alla CROSS per il trasferimento fuori regione dei pazienti considerati gravi. Il Molise si trova in piena emergenza sanitaria, previsto anche l'arrivo dell'esercito per l'attivazione in urgenza di almeno 10 posti in terapia intensiva entro il 29 di marzo. Invece il Presidente della Regione, Donato Toma, garantisce ulteriori dosi di vaccino per la campagna vaccinale. Ma andiamo a vedere. Che saremo entrati in piena emergenza sanitaria era chiaro e il sospetto c'era stato già dal mese di dicembre scorso, quando pian piano all'interno dei reparti Covid-19 del Cardarelli di Contrada Tappino i ricoveri si facevano sempre più frequenti e i posti letto sempre meno liberi. Ad oggi le cose sono letteralmente sfuggite di mano e l'ingresso della nuova variante inglese, nettamente più contagiosa, ha finito col mettere in ginocchio non solo il sistema sanitario italiano, ma anche quello molisano, già debole e impreparato a questa terza ondata pandemica. A tal proposito, tra polemiche e attese riguardo una struttura Covid e l'arrivo di un ospedale da campo, è giunta anche l'approvazione in Consiglio regionale sulla mozione degli esponenti del Partito Democratico per l'interessamento dell'esercito per l'attivazione in urgenza di almeno 10 posti letto in terapia intensiva. A dare la sua parola di questa decisione, Michela Fanelli. Intanto salgono di giorno in giorno anche i contanti in basso molise e non rientra l'emergenza. Anche ad Agnone la situazione sembra essere precipitata e per tale motivo la giunta comunale ha diramato un appello video in cui invidia la popolazione ad usare ogni tipo di precauzione e a evitare uscite inutili. I 23 positivi di queste ore, più quelli che già erano stati segnalati, hanno convinto il sindaco Sai ad adottare misure severissime, blindando così la città e chiudendo parchi, ville, piazze e luoghi di incontro. Scuole chiuse e chiuse anche le chiese. Non è il momento di dare sconti e permessi. Intanto in queste ore il presidente della regione Donato Toma ha assicurato l'arrivo entro il 29 di marzo di ulteriori dosi vaccinali della Pfizer, AstraZeneca e Moderna. La campagna, inutile a dirsi, in queste settimane ha subito un rallentamento a causa dei ritardi della casa AstraZeneca, a casa su cui la penisola aveva fatto ampio affidamento per proseguire a passo svelto la campagna anti-Covid-19. E ciò che è successo in Molise, affermato in una nota Stefano Buono, presidente di partecipazione democratica nell'ultimo anno in termini di gestione sanitaria ed emergenziale, è paradossale. Le persone stanno morendo perché non abbiamo più posti letto all'interno delle terapie intensive. Ora però la situazione è delicata e bisogna quindi trovare una situazione immediata. Esisteva, dice ancora Buono, ad inizio emergenza una deliberazione in consiglio regionale che individuava proprio il Vietri di Larino come centro ospedaliero dedicato al Covid. Quell'opzione continua è stata poi inspiegabilmente scartata e si è proceduto con la previsione di un ampliamento del Cardarelli con una spesa complessiva di circa 9 milioni di euro. I lavori, come era ampiamente prevedibile, dice in ultimo, non sono ancora stati iniziati. E dentro fine marzo arriveranno in Molise circa 46.640 dosi di vaccino anti-Covid-19. La programmazione è stata comunicata dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Il vaccino AstraZeneca, che oggi ha ricevuto anche il via libera per le persone fino ai 65 anni di età, sarà invece somministrato anche dai medici di medicina generale. La gestione del sistema sanitario in questo periodo di pandemia non piace ad una parte dello stesso centro-destra. Molisano rincara la dose e il movimento politico azione sulle misure per arrestare i contagi. Vediamo in questo servizio. Il Molise è sprovvisto delle più elementari strutture di rianimazione. C'è difficoltà persino nell'approvvigionamento di ossigeno indispensabile per la cura del Covid. L'ospedale Cardarelli di Campobasso ha 90 pazienti colpiti dal virus su 120 ricoveri totali, quindi tre posti letto su quattro. Si preferiscono, riferisce Michele Iorio, consigliere regionale di maggioranza, soluzioni momentanee che prevedono tre strutture mobili con tre equip diverse. Nel nosocomio di Contrada Tappino non sarebbe preferibile concentrare invece sforzi economici e organizzativi verso soluzioni più durature, invoca Michele Iorio. A poco meno di un anno dalla pandemia, la situazione è sempre più in salita e la gestione sanitaria a tratti incomprensibile per i molisani. Per il movimento politico di azione guidato da Luigi Valente si sarebbe dovuto organizzare la sanità per evitare la saturazione delle terapie intensive, aumentandone adeguatamente il numero. Si sarebbe dovuto creare subito un centro Covid per evitare il collasso degli ospedali, tamponi a tappeto ai cittadini per rilevare il numero dei contagi con un numero adeguato di strutture pubbliche e private presenti in Molise. Ripensamenti, contraddizioni accuse, reciproche e rimpalli di responsabilità hanno contraddistinto il 2020 e questo inizio di nuovo anno per il gruppo politico di azione. Anche l'avvio dei vaccini anti-Covid non è iniziato con i tempi e modalità previsti. Si può ancora correggere il tiro e rimediare, ma ciò presuppone consapevolezza degli errori commessi, iniziando ad operare scelte risolutive nell'interesse della salute della popolazione. E' una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, al Ministero della Salute, Roberto Speranza, per sollevare l'attenzione sulla situazione sanitaria. In Molise è l'iniziativa portata avanti dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle a Termoli. Ben 33 paesi in zona rossa, esaurite le terapie intensive, ma di riaprire il vietri chi di dovere non ne vuole proprio sapere se dai controlli dovessero ravvisarsi in adempimenti. Abbiamo quindi chiesto, si legge in ultimo, al Governo di farsi parte attiva nella vicenda. Passiamo adesso brevemente alla pagina della cronaca. Continua l'attività relativa alla maxi-operazione denominata Piazza Pulita, coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso e dal nucleo investigativo dei Carabinieri della Guardia di Finanza. Uno degli indagati di origine campana, considerato un elemento di spicco dell'organizzazione malavitosa, è stato sottoposto alle primi luci dell'alba di oggi agli arresti domiciliari dagli uomini dell'arma di Campobasso. La misura scaturisce dal ricorso presentato in Cassazione dalla Procura di Campobasso avverso l'ordinanza di scarcerazione dello scorso mese di giugno. Questo arresto va quindi a confermare l'impianto accusatorio delineato dalla Procura del capoluogo. E altro intervento alla Camera dei Deputati, l'On. Giuseppina Occhionero, che a fronte della gravissima situazione in cui si trova il Molise, chiede l'intervento urgente del governo Draghi. Ma andiamo a vedere. I dati della pandemia crescono in Molise, dove l'intera area a ridosso della costa e gli stessi comuni della fascia marina stanno vivendo giorni di grande difficoltà, anche per quanto riguarda i numeri dei ricoveri e degli eventi luttuosi. Per questo, l'On. Giuseppina Occhionero è intervenuta di nuovo alla Camera dei Deputati per chiedere un intervento urgente e la massima attenzione del governo, presieduto da Mario Draghi, anche a fronte degli eventuali contagi nelle varie aziende, tra le quali sicuramente la FCA di Termoli. Intervenco anche oggi per rappresentare la gravissima situazione del Molise, che è travolto dalla crisi pandemica, perché i dati che oggi arrivano dall'Agenzia dei Servizi Sanitari sono allarmanti, sia sui ricoveri ordinari che su quelli delle malattie infettive, che rilevano una soglia del 44% e non, ahimè, del 30%, come annunciato dal nostro Presidente della Regione, Toma. Il Molise, i molisani, noi molisani, abbiamo paura e il governo non può e non deve abbandonarci. Alla guida di chi, piuttosto che tutelare la salute dei nostri cittadini attraverso azioni urgenti, adeguate, ha pensato piuttosto a cambiare opinione spesso, sovente, con opinioni contrastanti, confusionarie, che hanno creato solo danno ai miei corregionali, il Presidente della Regione e il Commissario ad Acta. Ecco perché io supplico il Governo di agire subito, ora, nei limiti delle proprie competenze, anche sostituendosi a chi, ad oggi, ha manifestato evidenti incapacità di gestione della pandemia. E poi c'è un altro tema che mi preoccupa, di queste ore, che riguarda un eccessivo numero di contagi che si sono registrati all'interno dello stabilimento della Fiat FCA di Termoli. Ecco, è necessario sollevare la soglia dell'attenzione su questo stabilimento e innalzare il livello di sicurezza. E quindi io oggi voglio dare voce a tutti quei lavoratori della Fiat FCA che hanno paura, che sono spaventati, perché può scoppiare un nuovo focolaio pericoloso per l'intero Molise ed è giusto che la tutela della salute di tutti noi venga garantita. Grazie. In Molise la percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid-19 in terapia intensiva rispetto al totale di quelli disponibili è pari al 38% e quanto emerge dall'elaborazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali sulla base della rilevazione giornaliera aggiornata dal Ministero della Salute. E da venerdì a domenica si vota online per il rinnovo delle cariche all'Ordine dei Medici di Campobasso e Provincia ma ascoltiamo le linee programmatiche di una delle due liste in competizione quella chiamata Ippocrate con il suo candidato a presidente il dottor Antimo Aiello. Ascoltiamolo. L'Ordine dei Medici di Campobasso e Provincia è chiamato al rinnovo delle sue cariche sociali attraverso una votazione tassativamente online che inizierà con l'insediamento del seggio venerdì 26 febbraio dalle ore 16 per continuare sabato e domenica 27 e 28 febbraio dalle 8 alle 20. Abbiamo invitato i candidati alla presidenza di entrambe le liste in competizione per parlare dei loro programmi. ha accettato soltanto il dottor Antimo Aiello della lista denominata Ippocrate mentre la dottoressa Carolina De Vincenzo, presidente uscente dell'Ordine, ha deciso di declinare l'invito. Finalmente si vota dopo una vicenda piuttosto complessa per quanto riguarda il voto all'Ordine di Campobasso. Si vota soltanto online, per fortuna c'è stato l'intervento della Federazione Nazionale che ha messo a disposizione degli iscritti di Campobasso una piattaforma telematica sicura e affidabile. La nostra lista che si chiama Ippocrate 2020 e faccio un appello a tutti i colleghi iscritti all'Ordine prima di tutto a votare, a munirsi dello speed e a votare la lista Ippocrate 2020 che ha nel suo programma un presupposto fondamentale, quello di ribadire e rivalutare la figura del medico. Il medico come esperto con una dignità professionale importante, libero dai condizionamenti della politica e assoluto protagonista dell'assistenza sanitaria in qualsiasi luogo il medico operi. Questo è un dato fondamentale che poi legato a questo ci sono i temi della sicurezza biologica ma anche psicologica e soprattutto per quanto riguarda i più giovani e le donne. C'è il tema della grande necessità di riformare l'Empam che è il nostro ente di previdenza. C'è la grande questione che riguarda soprattutto la sburocratizzazione del lavoro del medico. C'è molto lavoro da fare. Vogliamo ribadire con forza che il medico è un protagonista assoluto e in quanto tale deve assumere la dignità che gli compete. E parliamo sempre di emergenza Covid. Vista l'evoluzione della diffusione del contagio, con un'ordinanza il sindaco di Torella del Sannio Antonio Lombardi, si ha stabilito la chiusura delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado da domani fino al 3 di marzo. E un giovane laureando nelle discipline storiche ed artistiche libero cutrone segnala invece uno stato di criticità dentro ed attorno alla chiesa di San Giorgio a Campobasso sollecitando così le istituzioni ad attivarsi per degli interventi. Ma ascoltiamolo. La chiesa di San Giorgio è la più antica tra gli edifici di culto a Campobasso. Risale al X secolo ed è situata all'inizio di Viale delle Rimembranze, un centinaio di metri per il castello Monforte e la chiesa di Santa Maria Maggiore, detta anche del Monte. Riceviamo la segnalazione di un giovane laureando in discipline storiche ed artistiche, libero cutrone, che sottolinea uno stato di forte criticità sia all'interno della chiesa, che porta il nome del santo padrono di Campobasso, sia all'esterno e chiede alcuni interventi immediati per fermare ogni degrado prima che sia già tardi. All'interno della chiesa purtroppo c'è uno stato di degrado a causa proprio dell'umidità, delle infiltrazioni d'acqua, probabilmente dovute anche all'acquedotto che abbiamo qui vicino costruito con la Cassa del Mezzogiorno negli anni 50. Quindi probabilmente sarà quello, probabilmente l'umidità del luogo. Chiaramente è una situazione critica che deve essere risolta perché il degrado funziona che man mano peggiora negli anni. La situazione che abbiamo qui dentro è una situazione che va avanti da tempo, da anni, e quindi è arrivato il momento di fare qualcosa. Inoltre esternamente abbiamo anche una situazione critica a causa di murales fatti dai writers, quindi abbiamo anche lì una criticità e quei murales vanno assolutamente tolti perché deturpano la visione della nostra bellissima chiesa romanica di San Giorgio. Un intervento immediato è molto probabilmente la soprintendenza che deve intervenire in questo caso perché c'è il vincolo della soprintendenza, quindi io voglio fare un appello appunto alla soprintendenza di Campobasso affinché inizi in maniera rapida questi lavori perché, come abbiamo detto, il degrado va avanti e non si ferma. Quindi la soprintendenza deve intervenire assolutamente. Questa è una chiesa importante perché conserva all'interno anche gli affreschi tardo-medievali che appunto sono vicini al luogo, tra virgolette, incriminato ovvero dove c'è la muffa, l'umidità, c'è un distacco d'intonaco che assolutamente va curato tramite un'indagine approfondita anche dal punto di vista scientifico perché con un'apposita strumentazione quindi bisogna assolutamente intervenire per preservare il nostro gioiello romanico. E nel nostro programma Ieri, Oggi e Domani condotto per noi da Michele D'Alessio in onda questa sera alle 21 e replica domani pomeriggio alle 15.30 si toccheranno due tematiche significative che si sono verificate negli anni passati. Nella prima parte si parlerà della vittoria nel secondo mandato di Gabriele Meloji sindaco di Sernia. La vicenda risale al mese di giugno del 2007 quando l'allora sindaco vinse le elezioni con il 70% dei consensi. Nella seconda parte si parlerà invece di Padre Pio e della sua permanenza a Venafro quando si fermò di ritorno da un viaggio per curarsi da lì. la presentazione di un libro che tocca i punti salienti del suo arrivo in Molise e di un'amicizia storica. E al via l'eco bonus 110% per le ristrutturazioni di casa. Un'opportunità questa è ripetibile per le famiglie e le imprese del territorio ma ascoltiamo le considerazioni degli esperti per non cadere in errori. Ingegnere, questo eco bonus 110 a chi può interessare? Può interessare tutti. È un'occasione unica, irripetibile, sia per noi che ne usufriamo come cittadini sia per tutto l'indotto perché lo Stato nel decreto di lancio ha messo in piedi questa attività che di fatto ha un moltiplicatore del finanziamento che viene ricevuto da ogni singolo cittadino che è incredibile. Confindustria ha stimato in 15 volte l'effetto moltiplicatore del super bonus. Quindi da un lato miglioriamo in maniera significativa la sicurezza della nostra casa, il comfort della nostra casa, dimezziamo di fatto i consumi, aspetto non indifferente, quindi migliorando sia quella che è la nostra vita economica che è la nostra vita ecologica in un periodo di transizione ecologica che adesso va tanto di moda. È un'occasione irripetibile. L'unica cosa, bisogna fare molto attenzione, è di fidare delle soluzioni facili, affidarsi a professionisti seri, ad imprese serie perché penso che tutti quanti immaginiamo che se lo Stato ha un condominio regala 4 milioni di euro, 5 milioni di euro, poi faccia tutte le verifiche adeguate per cui non bisogna incappare in nessun tipo di problema che potrebbe comportare poi la revoca del bonus. Ci può indicare quali lavori possono beneficiare? Sì, molto sommariamente ci sono tre tipologie di interventi trainati che sono miglioramento sismico, generale o puntuale, miglioramento eco e fotovoltaico. Per quanto riguarda l'eco, come intervento trainante è essenzialmente quello di mettere degli isolamenti certificati all'interno delle strutture per migliorare il gradiente termico e quant'altro. Da quello poi sono trainati sugli appartamenti essenzialmente gli infissi, le caldaie, gli impianti termici le pompe di calore, i condizionatori e tutto quant'altro a seguire. C'è da dire che ultimamente l'Agenzia delle Entrate in una interpretazione recentissima della settimana scorsa ha anche consentito di inserire insieme a questi interventi a seguito degli interventi trainanti anche la possibilità di abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto la sostituzione degli ascensori non vincolando più alla presenza del disabile e il bonus ma semplicemente alla presenza dell'anziano con oltre 70 anni. Ma questi soldi lo Stato li dà al locatario, al beneficiario o li dà all'impresa? Questi soldi sono una cedola di fatto una cedola che l'Agenzia delle Entrate affida al proprietario che la deve girare poi tramite l'amministratore di condominio se c'è un condominio o direttamente se è un'abitazione singola a un general contractor o direttamente all'impresa e al professionista incaricato. Ed è stato sottoscritto al Comune di Termoli il patto per la lettura con la sottoscrizione ha detto l'assessore Michele Barile iniziamo così un nuovo percorso che vede partecipi associazioni culturali istituzioni del territorio. Ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Cielo soleggiato oggi su un gran parte del Molise cielo stellato dalla sera le temperature sono comprese tra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 20 gradi a Disernia domattina ancora ampi spazi di sereno sulla regione mosso il medio adriatico venti deboli variabili e nel Girone F il Campobasso si aggiudica il derby molisano battendo in trasferta l'Olimpia nionese per 5 a 2 vittoria esterna anche per il Vasto Girardi sul campo del Porto Sant'Elpidio ma andiamo a vedere i risultati e la classifica aggiornata Diciannovesima giornata nell'Inter regionale Aprilia, Castelfidardo, Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi Fiuggi, Matese, Montegiorgio, Cinzia Albalonga Olimpia nionese, Campobasso rinviata la gara tra Pineto e Castelnuovo Vomano, Real Giulianova-Vastese Re Canatese-Tolentino chiude Rieti-Notaresco La classifica Campobasso in testa a 36 punti Castelnuovo-Vomano 34 San Nicolò-Notaresco 32 Castelfidardo e Cinzia Albalonga a 28 punti Vasto Girardi 27 Rieti 26 Vastese 25 Re Canatese 22 punti Aprilia e Tolentino a 21 Montegiorgio 20 Fiuggi 19 Pineto e Matese a 17 punti Chiudono il Giulianova a 9 punti Olimpia nionese Porto Sant'Elpidio a quota 3 Il Campobasso supera con autorità l'Olimpia nionese si conferma sempre più in vetta nel calcio della Serie D partita condotta in avanti sin dai primi minuti di gioco Vediamo Turno infrasettimanale allo stadio Civitelle testa coda tra l'ultima della classe l'Olimpia intenzionata a lasciare quanto prima i bassifondi del girone e la capolista Campobasso Cudini attua per l'occasione un ampio turnover nei Granata si rivede l'ex capitano croato Pecic in cabina di regia assieme a Di Lollo Spazio tra i pali all'under Caputo per l'undici affidato in panchina Mario Fusaro dirige il match Lorenzo Meccarini della sezione di Arezzo per il derby Granata di casa scelgono il completo bianco la classica blusa rosso-blu per la formazione viaggiante Pronti via i lupi mettono in casso la prima marcatura l'ex vittorio Esposito apre da sinistra a destra con un perfetto arcobaleno catapultato sulla testa di Vitali che incrocia l'angolo e fa secco Caputo non sono trascorsi neanche tre giri di lancette 4-3-3 speculare i sistemi adottati da entrambe le panchine per il campo basso Ladu e il metronomo Esposito lo spauracchio dal quale partono gli assist più interessanti come al quarto d'ora il numero 10 inventa per Van Zan lo stantuffo Mancino arriva sul fondo a rimorchio Vitali anticipa i difensori centrali e fissa il risultato sullo 0-2 Rossetti scarica in porta dopo un travolgente contropiede dei suoi Caputo ci mette i guantoni e spedisce in angolo in campo aperto gli ospiti fanno valere le qualità tecniche la superiorità atletica l'agnonese stordita ma non abbattuta i meccanismi dei rosso-blu sono però oleati a dovere Rossetti scardina il cuoio dai piedi di Pecic e si invola verso l'area avversaria Candellori gli subentra nella trama e timbra il palo Caputo si salva al 27esimo per la posizione irregolare del numero 8 ospite proiezioni in avanti per l'Olimpia dai piedi di Ferri l'esterno d'attacco Mancino il tiro Sibila dal basso verso l'alto ma Racichini controlla con lo sguardo Vanzan per Rossetti dopo il velo di Candellori nel 4 contro 2 il centroavanti del campo basso è egoista la conclusione si adagia tra le braccia di Caputo 37esimo ripartenza di classe della capolista Candellori prende palla si accentra e scarica all'angolo Caputo in ritardo e viene infilato per la terza volta sesta rete per il centrocampista in questo torneo palla filtrante in area rosso-blu si avventa all'argentino Abercon l'estremo Racichini tiene inviolata la sua porta prima del rientro negli spogliatoi netta la supremazia degli ospiti in lungo e largo il risultato al termine dei primi 45 minuti non fa una grinza Buono prende il posto di Ferri nei locali nel secondo tempo proprio il neo entrato spinge alle spalle ingenuamente esposito in uscita dai 16 metri il fantasista di San Martino si presenta sul dischetto e consegna ai suoi il 4 a 0 nulla da fare per Caputo costretto ad inchinarsi ancora una volta nei rosso-blu si infortuna Martino gli subentra Fabriani sulla corsia destra ottavo minuto dall'angolo di Bottalico si impappina la retroguardia di mister Cudini Racichini non riesce ad evitare che la palla barchi la linea bianca sul tocco del compagno di reparto Van Zan l'Olimpia riduce le distanze la migliore trama dell'agnonese porta in rete l'attaccante Sosa i bianchi di casa fanno girare palla molto velocemente Racichini deve inchinarsi per la seconda volta in pochi minuti applausi dalle gradinate per la reazione d'orgoglio il campo basso non si scompone e trova la quinta rete ancora con Rossetti il centroavanti ma sono evidenti le amnesie difensive dei padroni di casa la capolista riscava il solco e passa sul 5 a 2 torre in area di Nicolopoulos il difensore centrale Granata Buono scarica al volo verso la porta il fischietto Meccarini è coperto e lascia correre il possibile fallo di mano l'Olimpia gioca senza più nulla da perdere Abercon disegna una parabola all'angolo da calcio piazzato Racichini non è da meno applausi la gara non ha più nulla da chiedere Campopasso sempre più da solo in vetta al raggruppamento F Perigranata una sconfitta pesante nei numeri la sesta consecutiva ma con qualche sprazzo di reazione dignitosa al cospetto della prima della classe E arriverà a Termoli il prossimo 14 maggio la settima tappa del Giro d'Italia l'annuncio ufficiale si è avuto nella giornata di oggi al termine della presentazione della manifestazione ciclistica simbolo dell'Italia la carovana rosa tornerà a Termoli così dopo dieci anni di assenza Il settore giornale della Federcalcio Molise ha coinvolto gli istituti scolastici promuovendo il progetto Valori in rete senza frontiere 17 sono le scuole che hanno aderito e tra l'altro in fase di preparazione in collaborazione con l'AIA il progetto arbitro scolastico di calcio a 11 descrizioni sono attualmente in corso e con questa ottima notizia è tutto si conclude qui l'edizione del telegiornale della sera come sempre vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento arrivederci e vi ringrazio e vi ringrazio